Infiltrazioni alla scuola media Ignazio Scaturro e attività didattica che domani in questo istituto riprenderà, ma dalla seconda ora, nessun problema nelle altre scuole dell'obbligo. Questo è il risultato dei sopralluoghi effettuati stamani all'interno delle scuole di base della città di Sciacca che insieme alle altre scuole di ogni ordine e grado sono rimaste chiuse su disposizione del sindaco Fabrizio Di Paola. Si è temuto che la pioggia incessante di ieri potesse creare problemi agli edifici scolastici. Per tale ragione il primo cittadino ha ritenuto ieri pomeriggio di disporre con apposita ordinanza la chiusura per oggi di tutti gli istituti al fine di verificare le condizioni strutturali degli edifici. Le verifiche proseguiranno anche nelle prossime ore. Nessun problema al comprensivo Mariano Rossi di Contrada Perriera, alla scuola media Inveges, al secondo circolo Sant'Agostino, al plesso Agazzi di Via Anastasia, alla scuola di Contrada Isabella, alla materna di Via Tommaso Campanella, al comprensivo Dante Alighieri e al plesso Loreto. Qualche criticità è stata invece riscontrata, come si diceva, alla scuola media Ignazio Scaturro, come conferma ai nostri microfoni l'assessore alla pubblica istruzione, Maria Antonietta Testone. Fino adesso le scuole che sono state oggetto di un controllo non hanno evidenziato criticità, ad esclusione appunto della Scaturro, dove ci sono stati dei problemi di infiltrazione di acqua e quindi rispetto a questo i tecnici hanno avuto modo di constatare l'entità del danno che si è verificato e quindi valutare un pochino successivamente come agire rispetto a questa situazione. Domani l'attività didattica riprenderà naturalmente in tutte le scuole, una volta che non sono stati evidenziati i problemi? Io ritengo di sì perché non ci sono situazioni particolari e quindi fermo restando che noi ancora dobbiamo andare in altre scuole ma siccome già i Bidelli hanno aperto le scuole proprio per consentire questo accesso degli uffici e dei tecnici dell'ufficio comunale, ritengo che se ci fossero state delle criticità come ad esempio la Scaturro già saremmo stati informati. Situazione critica dunque soltanto alla Scuola Media Scaturro dove il problema legato alle infiltrazioni si trascina in realtà da anni. Le lezioni comunque riprenderanno con regolarità piuttosto che dalla prima ora riprenderanno un pochino più tardi, io ritengo in onora i Bidelli dovrebbero provvedere ad effettuare le dovute pulizie, quindi alle 9.30 le lezioni riprenderanno con regolarità, anzi profitto della vostra emittente per dire alle famiglie che domani mattina piuttosto che portare i loro figlioli a scuola alle ore 8 le lezioni riprenderanno alle ore 9.30 e quindi potranno portarle proprio a quell'ora. I problemi della Scaturro sono problemi che sono sorti subito dopo che i lavori con l'impresa sono ultimati, sono problemi che ho evidenziato a più riprese con i diversi assessori che si sono succeduti, ma in primo luogo diciamo con la direzione dei lavori e con il Ruppe. Il ripetersi di queste piogge abbondanti ora non farà altro che fare venire fuori comunque sempre il medesimo problema e quindi ormai ritengo che bisogna venire a capo della questione. Una lettera l'ho inviata tre giorni fa, quasi voglio dire profeta di quello che sarebbe successo da qui a poco, domani è chiaro che io scriverò nuovamente ai tecnici del Comune come ho anticipato all'assessore con una vera e propria diffida.